libro consigliato da Shasha riteneva i vicere quindi consigliato da Shasha che non è passato di libreria ma comunque passerà magari passerà nelle nostre menti Shasha considerava i vicere il libro italiano più bello dopo i promessi sposi piccolo gossipino lui pressava Visconti perché non facesse il gatto pardo ma voleva che lui facesse i vicere tant'è che poi Visconti quando Shasha andò sul set del gatto pardo cominciò a immaginare anche un film vicere con Lancaster con Alain Delon e però purtroppo poi non ce l'ha fatta a farlo c'è una corrente di pensiero che ritiene i vicerei più importanti del gatto pardo anche più bello del gatto pardo c'è proprio una divisione netta c'è io l'avverto anche qui in libreria e tu la sposi? no io preferisco il gatto pardo però però ci sono molte persone che preferiscono i vicerei è un po' come i Beatles e Rolling Stones un po' i Beatles e Rolling Stones